In nome di un futuro che ci sta venendo sottratto, in nome di politici, di stati e di governi che continuano ad ignorare la palese emergenza climatica e la situazione in cui siamo. Qui ci sono 500 persone da tutta Europa, da tutta Italia che si sono giunte per combattere assieme a noi, per gridare assieme a noi tutti i nostri diritti e quello che vogliamo fare. Guys, what do we want? Guys, what do we want now?